Tre anni fa, quando sei arrivato, quando hai visto le cifre e ti sei reso conto, guardando un bilancio, sapendo leggere anche un bilancio, che cosa hai pensato? Per un attimo ho pensato di dover portare i libri in tribunale, perché io ho trovato 6 milioni abbondanti di decreti ingiuntivi, pignoramenti e ingiunzioni di pagamento, 4 milioni e mezzo di diffide di pagamento, quindi quasi 11 milioni di euro che dovevano essere sborsati nell'arco di qualche settimana e che evidentemente non avevamo. Cioè ne hai presa come una sfida? Ma lo è, lo è stata, per me è stata una sfida personale, assolutamente, non mi sarei mai sognato di accettare la candidatura a Ruzzoretti se non ci fosse stata anche una componente di sfida personale. Una componente di sfida personale? Sì, sì, assolutamente.